Buongiorno, mi presento i vini che avremo portato ad Assisi quest'anno. Il Mida Rosso, che è a Montepulciano in purezza, fa 18 mesi di notte piccola. Poi il Pecorino, Mida Pecorino, il 2019, che ha fatto la trasione solo in acciaio, poi bottiglia. Poi questo è il primo anno della passerina, sempre un 2019, fa sempre l'affinamento in acciaio. E poi il Rosato 2018, che fa sempre un affinamento in acciaio. Il Bitigno è un Montepulciano con un po' di grenaggi del Piceno. E poi abbiamo portato sicuramente Assisi, 2016, che è il grenaggi del Piceno, che fa un affinamento in legno per 18 mesi. Poi bottiglia. Poi sicuramente è uno spumante, il Mida Spumante merito classico da Pecorino. È un 2018, 17 mesi sui lieviti. È un dosaggio zero. E poi uno spumante rosè, questo è un 2017, 28 mesi sui lieviti. Il Bitigno è un Montepulciano con una base, con un po' di grenaggi del Piceno. È sempre un dosaggio zero. Pensando a un aneddoto che mi è venuto in mente tempo fa, la prima volta che abbiamo fatto lo spumante, impottigliato, poi volevamo fare, dopo qualche, dopo una settimana circa, volevamo fare una pila, una piramide su un muro. È successo che dopo tre, quattro file è crollato tutto. Era iniziato ad esplodere le bottiglie, siamo scappati, qualche bottiglia si è rotta. Fortunatamente niente di grave, ma alla fine una risata, ma al momento era un po' drammatica la cosa. Arrivederci a tutti e ci vediamo a Cerea prossimamente. Grazie.